Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per i propri percorsi di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre. Grazie. Abbiamo la giustizia. Cari amici dei gemelli, periodo che tende all'equilibrio. Quando c'è la carta della giustizia è perché si tagliano cose che non servono più proprio per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. E' anche una carta che ci parla di questioni burocratiche, di tutto quello che ha a che vedere con i fogli, la firma dei contratti, il mettere le cose in regola diciamo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il sogno lunare o venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora partiamo con un 5 di bastoni, un 8 di coppe. 5 di bastoni è una carta di competizione, una carta di concorrenza, è una carta che ci parla di più persone che competono per lo stesso risultato, per lo stesso obiettivo. C'è anche un 8 di coppe, l'8 di coppe è una carta in realtà di isolamento, di ricerca, quindi è un po' come se con l'8 di coppe foste portati a cercare quello che serve veramente a voi, è l'arcano minore dell'eremita, quindi si parla di una ricerca interiore. Con la carta del Papa al contrario sento che in qualche modo ha a che fare con questa giustizia ragazzi, perché ho come l'impressione che qualcuno non voglia ufficializzare, non voglia regolarizzare o qualche tipo di collaborazione visto che partiamo con un 5 di bastoni, ho comunque una qualche questione. Abbiamo poi anche la regina di coppe, io credo che qui ci sia una sorta di confusione emotiva da parte vostra, perché poi abbiamo anche un 6 di pentacoli al contrario. Ho come la sensazione che qui c'è qualcuno, lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi, però con i 6 di pentacoli al contrario, è come se non riceveste il compenso, la riconoscenza, la gratitudine anche, che voi vi aspettate o che voi vi meritate. Andiamo avanti, vediamo, abbiamo anche un cavaliere di spade, vediamo l'ultima carta, come chiudiamo la linea, e un 9 di coppa al contrario, ok. Quindi sì, il cavaliere di spade mi indica un'energia di determinazione. Io ho come la sensazione che qualcuno qua decida ad un certo punto che non è completamente felice, non è completamente appagato o appagata dalla situazione che c'è in partenza, diciamo verso metà dicembre, questo è metà dicembre, questo è fin dicembre più o meno. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, così vi dico qualche cosa di più nello specifico, perché il cavaliere di spade potrebbe anche essere una persona, magari proprio la persona con la quale c'è questa sorta di disequilibrio. È interessante perché avete la carta della giustizia, che parla appunto di rimettere le cose in equilibrio come carta tema, e qui ci fa vedere che cosa c'è da rimettere in equilibrio, probabilmente dedicate troppo tempo o troppe energie a questo tipo di progetto o a questa persona. E questo sicuramente non vi rende appagati, ecco. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto, per chi fosse interessato, vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi, che partirà a gennaio del 2023. È un corso online, quindi potrete interagire con me, non sarà registrato. Per chi fosse interessato, ho già pubblicato un video che spiega il programma e le modalità di svolgimento, e anche di quello trovate il link qui sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario, un'imperatrice al contrario. C'è qualche tipo di movimento qui che è un po' rallentato, mi verrebbe da dire. Può essere che questa sorta di competitività ci sia con quest'imperatrice, con una figura materna magari, con un capo di riferimento. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Passo di bastoni e 5 di bastoni nuovamente che è la stessa energia di questa carta. È come se foste in una fase dove, come vi posso dire, iniziare a lottare per le vostre idee, per fare quello che a voi interessa realmente fare, per andare verso la vostra passione, perché l'asso di bastoni parla di passioni, parla di nuovi inizi, parla di nuove intenzioni, di scintille, di idee che riaccendono l'entusiasmo. Andiamo a vedere il Papa. 6 di coppa al contrario, 9 di bastoni e 8 di pentacoli al contrario. Ho la sensazione che qui ci sia una sorta di... guardate, si è girata anche la regina di coppa e la metto. Come vi posso dire? Perché il 9 di bastoni è una carta che parla di difesa, di stare sulla difensiva. Ho come la sensazione che ci sia già stata una situazione simile nel passato dove, di nuovo, c'è stato una sorta di mancato riconoscimento da parte della regina di coppe, che, essendo una regina di coppe che abbiamo anche qui, può fortemente essere la madre, potrebbe anche essere, ripeto, un capo, una figura di riferimento, semplicemente magari una sorella, e qualcuno, diciamo, a cui fate riferimento. È una persona che per voi è importante, insomma, è importante avere il suo benestare. Però è come se qua avesse paura che ritorni un ciclo, un ciclo di delusione, di stanchezza. È come se aveste paura che il vostro lavoro non venisse riconosciuto. O voi, comunque, il vostro ruolo. Adesso, poi, ognuno lo applica la propria realtà, eh. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un sei di spade, un fante di coppe e un quattro di coppa al contrario. Sì, il sei di spade mi dice che c'è la necessità di lasciarsi indietro certe credenze limitanti, proprio legata alla madre. Questo sei di spade parla proprio di quello che è legato agli insegnamenti che sono stati appresi in famiglia, soprattutto con la madre. Molte volte parla anche dei problemi che ci sono con la madre. E considerato che abbiamo anche un fante di coppe e un quattro di... Sì, io credo che molte persone abbiano paura di essere rifiutati, abbiano paura di un rifiuto, di non essere accettati, di non essere incoraggiati. C'è qualcosa che manca qui. Se non fosse la madre, cioè, se per voi non risuonasse come, diciamo, dei conflitti o quello che ho detto fino adesso, cioè nel senso, se non risuonasse come una figura esterna, potrebbe far riferimento al vostro lato femminile. Che cosa non vi concedete con il vostro lato femminile? Perché anche la giustizia, adesso, in questo mazzo no, in questo mazzo qui, se poi mi capita la tiro fuori, nella bilancia ci sono un cuore e una piuma, quindi qui si tratta di mettere in equilibrio il cuore e la mente fondamentalmente. Quindi il cuore è quello che, diciamo, è associato al sentire, al femminile. La mente è associata alla comprensione, quindi al maschile, al divino maschile. Per cui qui c'è qualche cosa che vi dovete permettere di sentire di voi. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli al contrario. 8 di spade, la torre al contrario e il giudizio. Sì, guardate, qui ho proprio la sensazione che verso la fine di dicembre, ragazzi, vi toglierete la benda, perché tutto quello che erano i sensi di colpa, la sensazione di non potersi muovere dal tipo di situazione che avete, o il fatto, la sensazione di avere le mani legate, perché comunque è un otto di spade. Parla anche di tutti quei pensieri circolari, anche un po' tossici. Qualche cosa casca, perché abbiamo la torre e la carta del giudizio. La carta del giudizio è la presa di consapevolezza, è l'illuminazione, è il rendersi conto di qualche cosa, è il riuscire a vedere la situazione da un punto di vista più ampio. Andiamo a vedere il cavallo di spade. 10 di spade, 8 di coppia nuovamente che avevamo già qui, e ruota della fortuna. Allora, con questo cavaliere di spade ho come la sensazione che cambiano le dinamiche, perché il 10 di spade è una carta di chiusura cicli, e anche la ruota della fortuna è una carta di chiusura cicli, e il giudizio è una carta di rinascita. Qui c'è qualcuno, ragazzi, che cambierà le regole del gioco, metterà le cose in regola, aggiusterà, la giustizia parla di cose fatte bene, dritte, ok? Quindi è come se qualcuno qua reinquadrasse determinati equilibri. La ruota della fortuna è una carta bellissima, parla di cambi positivi, e sento che, in questo caso specifico, parla di chiusura di cicli karmici. Avete la giustizia, che parla di giustizia divina, il giudizio, che parla di karma, e anche qui c'è un angelo, e avete la ruota della fortuna, che anche questa parla di destino, karma. Quindi io credo che, verso la fine dell'anno, chiuderete un vecchio ciclo, per iniziare ad aprirne uno nuovo, poi, a gennaio. Andiamo a vedere questo 9 di coppia. 8 di bastone dal contrario e 7 di coppe. Guardate, ragazzi, le carte vi consigliano di non farvi prendere dalle illusioni, e di migliorare, se vogliamo, la comunicazione. Perché quando l'otto di bastone è al contrario, parla di una comunicazione un po' superficiale, ok? Quindi, nel caso, dobbiate comunicare qualche tipo di notizia, di scelta, di spostamento, perché l'otto di coppe può anche fare riferimento a dei viaggi, e anche il 6 di spade abbiamo, che fa riferimento a dei viaggi. Non lo so, ho un po' la sensazione che qualcuno voglia partire per nuove mete, per nuove regole, se vogliamo. Però, ecco, fate attenzione, perché quando c'è il cavalier di spade è sempre un'energia un po', come vi posso dire, con tante belle idee, anche con tanto entusiasmo e determinazione, soprattutto per raggiungere le idee, qui in un certo senso lo vedo, questa determinazione. Però, ecco, rischiate poi di farvi un po' troppo prendere dal mondo mentale, senza rendervi conto come poter realizzare le idee da un punto di vista pratico, probabilmente. Quindi, la comunicazione in questo caso deve essere migliorata. Magari, non è la comunicazione, ipotesi, se fosse una stessa di lavoro, non è la comunicazione tra colleghi, ma la comunicazione magari tra l'azienda e i clienti. È più una comunicazione esterna che non interna. va bene, andiamo a vedere con Osho cosa si vede, cosa non si vede di questa situazione. Io intanto ci tengo a ringraziare davvero tanto le persone che sostengono il canale e che mi fanno capire, insomma, con i like che il lavoro che sto facendo vi aiuta. Per me è importante, è importante anche una semplice condivisione piuttosto che un commento, quindi vi ringrazio davvero. abbiamo possibilità e celebrazione, wow! Si aprono delle possibilità, ragazzi, ve l'ho detto. Qui cambia qualche cosa, cambiano certe dinamiche, un po' come se vi toglieste la benda, arriverà l'ideona, come vi posso dire. Quando c'è il giudizio io lo vedo sempre come non una lampadina che si accende, ma un intero lampadario, la carta delle possibilità vi dice di guardare le cose da un punto di vista ampio, che è proprio quello che vi dicevo con il giudizio. E poi abbiamo la carta di celebrazione, che comunque il nove di coppe, anche se al contrario, però c'è nell'energia, quindi si va verso un'energia di celebrazione, un'energia di compimento. L'unica cosa, valutate bene le idee che avete in testa, perché qualcuna potrebbe essere veramente un po' troppo illusoria, poco concretizzabile. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli. Ok. Ok, wow. Abbiamo questa, questa ve la metto qua. vicino alla regina di coppe. Carta numero 34. Questa carta parla di una corrente di emozioni, parla di sentimenti incontrollati, parla di alti e bassi emotivi, di qualcuno che sta, è letteralmente la regina di coppe, di qualcuno che è immerso nelle proprie emozioni, belle o brutte che siano, è un po' come vivere in questa bolla, E sono sentimenti che non riuscite comunque a controllare, a dominare, a inquadrare. E poi abbiamo la carta numero 19 che vi dice di liberarvi da quello che devo fare, o questo appuntamento, è un po' una carta che vi dice lasciate andare l'urgenza, quello che dovete fare, ok? Insomma, in buona sostanza, dedicatevi del tempo in isolamento per fare le vostre considerazioni personali. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura insomma, vi sia stata utile. se non ci vediamo più io ci tengo ad augurarvi un Natale pieno, pieno, pieno d'amore, ricco di gioia, di abbondanza, che possiate trascorrerlo con tutte le persone a voi care in pace e serenità. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!